Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. E questo è il mio Draw My Life. Sedetevi comodi, prendete dei popcorn e vi anticipo già che sono un cane a disegnare. Sono nato il 22 settembre 1996 a Verbagna, che per chi si stesse chiedendo dove sia, è in Piemonte, sul Lago Maggiore. Me lo chiedono tutti, non sanno mai dov'è. Mio papà si chiama Pasquale e mia mamma adora. Loro sono i miei genitori. Già da piccolo mi sentivo diverso dagli altri. Vi dico solo che avevo gli occhiali e una benda all'occhio che sembravo tipo un pirata. E non sto parlando nella mia classe, no. Ero l'unico in tutto l'asilo. La mia infanzia è stata abbastanza particolare, perché mio papà e mia mamma lavoravano un sacco, praticamente tutto il giorno. E quindi io passavo un sacco di tempo con mio nonno, mia nonna e mio zio, che avevano un negozio di frutta e verdura e quindi facevano anche il mercato. Quindi io andavo sempre al mercato con loro e passavo un sacco di tempo in mezzo alla frutta, la verdura e vedevo loro lavorare. La maggior parte del tempo però, da piccolino, l'ho passato con mia nonna al magazzino, dove anche lì appunto vendeva frutta e verdura. Quindi oltre a stare lì, mia nonna mi portava anche al parco giochi, mi portava a fare i suoi giri, e c'era tipo un parco vicino al magazzino, con quest'albero tipo gigante, con un buco in mezzo dove noi infilavamo tipo i legnetti. Mi divertivo un sacco, non so perché, però mi divertivo. Passavamo un sacco di ore lì. Ero un bambino che era abbastanza sballato con gli orari, perché magari gli altri andavano all'asilo nido e io invece mi alzavo prestissimo, tipo alle 5 del mattino, per andare al mercato con mia nonna, mio nonno e mio zio. Dato che frequentavo i miei nonni e mio zio a lavoro, già da piccolino volevo fare un sacco di soldi. Infatti mi mettevo di fianco a loro e creavo un mini mercatino mio con i miei giocattoli e cercavo di venderli anch'io ai clienti dei miei nonni. Sono sempre stato un tipo sportivo, quindi già da piccolino mia mamma mi iscrive a nuoto. Però abbandonai subito, già dalla prima lezione, perché alla prima lezione il bagnino, il mio istruttore di nuoto, mi affogò in piscina. Diceva che serviva per imparare a nuotare. Non mi ricordo come si è fatto, però lo disegno muscoloso. Quindi abbandonai. Dopo il nuoto, quindi, come tutti i bambini della mia età, iniziai a giocare a calcio. Però non mi trovavo bene, perché nella squadra tutti gli altri bambini andavano nella stessa scuola, erano tutti amici. Io ero tipo un intruso. E quindi rimanevo sempre un sacco di tempo da solo e non mi piaceva andare all'allenamento. Quindi un bel giorno, per attirare l'attenzione, scagliai un pallone contro il vetro di uno spogliatoio e si è rotto. Ovviamente io negai ai miei genitori di essere stato io. Forse a mia mamma l'ho detto, mio papà ancora non lo sa, però sì, sono stato io a rompere quel vetro. Quindi potete capire che anche dopo quell'avvenimento lasciai anche il calcio. Verso i 6-7 anni iniziai a rompere le scatole a mia mamma e mio papà perché volevo un fratellino o una sorellina. Gli ho proprio stressati. E come per magia, quando avevo 7 anni, mia mamma rimase incinta. Quindi il 6 agosto del 2003 nasce mia sorella, mia sorellina Martina. All'inizio, ve lo dico, ci odiavamo e io guardavo un sacco di wrestling, quindi provavo le mosse su di lei che era piccolina. Però non vi nascondo che lei mi picchiò tantissimo quando era piccola. Anche perché io non mi potevo difendere più di tanto perché rischiavo di farle davvero male. La cosa è totalmente cambiata adesso perché andiamo d'amore e d'accordo, siamo gli inseparabili, dice mia mamma. Le voglio un sacco bene, mia sorella. Questa è una nostra foto. Arrivano gli elementari. E non vi nascondo che mi sentivo un po' a disagio perché comunque c'era stato un po' un cambiamento. Io ho tolto il cerottino dall'occhio ma avevo comunque queste occhialine alla Harry Potter e dei capelli bruttissimi. E c'erano i miei compagni di classe che erano sempre pieni di ragazze. E io no. Ero un tipo studioso, mi dedicavo tanto ai compiti. Quindi non capivo se fosse una cosa buona dedicarsi troppo ai compiti e non alla vita sociale. E quindi mi sentivo un po' a disagio. Verso la quinta elementare inizio a praticare un nuovo sport. Il basket. E devo dire che è nata una vera passione. Per il basket ero davvero portato. Ero fortissimo. Abbiamo vinto un sacco di campionati, di tornei. E io ero tipo il migliore in campo. Ve lo assicuro. Quindi ero felicissimo. Stavo passando un periodo bellissimo nella mia vita che è servito anche a sbloccarmi. Dopo un anno o due che giocavo a basket. Come vi dicevo ero davvero forte. Mi notò un altro allenatore di una squadra che era un po' più lontana da casa mia. Solo che per andarci avrei dovuto prendere l'autobus da solo. Era lontano. E io ero davvero piccolo per farlo. Quindi lasciai anche il basket. Tante volte mi chiedo se avessi continuato dove sarei ora. Probabilmente ai livelli di Michael Jordan. Arrivo alle scuole medie. Alle scuole medie c'è stato un cambiamento assurdo. Finalmente posso togliere gli occhiali. Mi faccio crescere i capelli e finalmente ho un taglio decente. Quindi inizio davvero a rimorchiare un sacco di ragazze. E non ero più il secchione della classe. Questa è una foto di me e mio papà verso gli 11-12 anni. In prima media presi un cagnolino che era stato abbandonato per strada e lo chiamai Luna. Era una cagnolina bellissima. Io ero davvero fomentato. Ci passavo qualsiasi istante della mia vita. Ed era una buona scusa anche per uscire col mio migliore amico Riccardo. che aveva anche lui un cagnolino che era un Labrador e si chiamava Lucky. Quindi questa cosa ci avvicinò molto. Uscivamo tutti i giorni insieme e portavamo in giro i nostri cani. Guardavamo un sacco di programmi che c'erano in televisione dove non c'erano i concorsi dei cani dove si vincevano delle cose. E noi allenavamo i nostri cani per iscriverli. Dopo sei mesi Luna dovette lasciare casa. L'abbiamo portata via perché mio papà diceva che era malata e non voleva che io vedessi diciamo la sua morte ecco. Però non so se veramente fosse malata. Ho sempre questo dubbio. Ero davvero tristissimo quel periodo perché per me era diventato tutto quel cagnolino. Quindi entrai in un periodo bruttissimo della mia vita. Verso i 13-14 anni scopro una nuova passione quella per la musica. Quindi iniziai a prendere lezioni di chitarra. sognavo di fare i concerti tutte queste cose qua di diventare un cantante e suonare in una rock band. Questa è una foto del mio periodo emo. Ascoltavo musica strana avevo outfit strani e dei capelli stranissimi. Avevo il ciuffo lunghissimo sembravo quasi una ragazza. Dopo il mio periodo diciamo emo inizia un periodo davvero grandissimo per me verso i 13-14 anni appunto. Avevo questo taglio di capelli che forse piaceva tanto alle ragazze. iniziai a prendere molta più sicurezza e vi giuro che ero un playboy avevo cambiavo una ragazza settimana a volte ne avevo anche due contemporaneamente. Tanto che questo fece iniziare il periodo penso più brutto della mia vita perché tanti maschi nel mio paesino erano invidiosi di me perché uscivo con così tante ragazze quindi loro per sfogarsi se la prendevano con me. E' stato davvero un periodo bruttissimo perché non se la prendeva solo con me una persona ma venivano in gruppetti di tre quattro a volte anche cinque e quando mi vedevano in giro per strada mi picchiavano ma mi picchiavano davvero forte e quindi c'è stato un periodo che non usci più di casa ero depressissimo mi chiedevo in casa e avevo paura di uscire. Questa cosa fece scaturire qualcosa in me del tipo nessuno più mi deve toccare con un dito quindi mi iscrissi a box e iniziai a allenarmi tantissimo andavo anche durante i giorni di festa anche sotto la pioggia ero stramotivato ed andavo andavo a allenarmi con un fisico paura ve lo giuro quello che non ho adesso però questa passione durò solo tre mesi il mio obiettivo era semplicemente ingrossarmi un po' e imparare qualche tecnica per difendermi e di conseguenza tornai alla mia vera passione ovvero il calcio stavolta andai a giocare in una squadra dove c'erano tutti i miei amici quindi riuscivo a giocare bene non avevo la paura di rimanere da solo poi ero anche più grandicello iniziò davvero un bel periodo per la mia vita nello stesso tempo crescendo iniziai a conoscere le persone sbagliate ad avere le compagnie sbagliate e soprattutto a frequentare strade sbagliate ho fatto delle cose davvero brutte che non mi va di raccontarvi però è stato un periodo davvero strano della mia vita iniziai a frequentare brutte amicizie a fare brutte cose ad avere brutte abitudini ero diventato un piccolo gangster un ragazzo della strada passato questo periodo diciamo di brutte amicizie iniziai a eliminare un po' gli amici sbagliati perché mi accorse che stavo facendo davvero delle cose orribili iniziò in me a esserci un senso di responsabilità quindi iniziai a fare dei lavoretti iniziai ad andare a lavorare e mi ero creato una pagina dove vendevo tipo videogiochi usati cose del genere avevo creato un business facevo davvero un sacco di soldi perché non volevo più chiedere soldi ai miei genitori ma volevo essere indipendente quindi mi comprai la televisione la playstation tutti con i miei soldi senza chiedere un soldo a papà e mamma perché mi sembrava sbagliato l'1 ottobre del 2013 succede una cosa davvero bruttissima una cosa che mi spezzò il cuore questo penso fu davvero il periodo più brutto della mia vita perché mio nonno mi lasciò andò in cielo ma sono sicuro che da lassù comunque sta vegliando su di me a volte mi chiedo se sia orgoglioso di tutto quello che sto facendo e a volte mi viene da ridere perché la prima volta che mi tinsi i capelli avevo un ciuffetto biondo e lui si prese malissimo quindi non voglio immaginare cosa pensi vedendomi cambiare tutti questi colori di capelli con tutti questi tatuaggi l'ultimo ricordo che ho di mio nonno è un ricordo bellissimo perché io andavo sempre a trovarlo in ospedale lo accompagnavo e l'ultimo periodo diciamo della sua vita purtroppo in ospedale lo passava sulla sedia a rotelle perché riusciva poco a camminare mi venne un tumore e quindi io passavo un po' di tempo a casa nel letto e quando uscivo uscivo solo per andare a trovare mio nonno e mi ricordo che l'ultima volta che lo vedi lo stavo accompagnando lo stavo portando a fare un giro sulla sedia a rotelle e una certa io dovevo andare a giocare a calcio e gli dissi nonno guarda adesso devo andare devo andare a giocare a calcio e lui mi disse no dai resta ancora un po' con me dai facciamoci un altro giro quindi non andai dai miei amici a giocare e restai con mio nonno e forse lui lo sapeva che se ne stava per andare infatti quello è stato l'ultimo pomeriggio che ho passato con lui e quindi questo è l'ultimo ricordo che ho di lui dopo qualche mese anche mia mamma si ammalò venne un tumore anche a mia mamma e quindi io ero spaventatissimo non sapevo davvero come comportarmi perché se ne era appena andato il nonno e quindi avevo paura di perdere anche lei quindi iniziò un loop di paura dolore stress io stavo davvero malissimo infatti in quel periodo passavo tantissimo tempo a casa e scoprì il mondo di youtube mia mamma aveva una videocamera e decisi di rubargliela per fare un video e quindi da lì iniziò ufficialmente la mia carriera su youtube infatti youtube l'ho aperto per distrarmi era un metodo di sfogo mi faceva sembrare più responsabile perché facevo vedere ai miei genitori che stavo facendo qualcosa e quindi questa cosa mi distraeva era un po' un gioco mi ha aiutato ad allontanarmi un po' da quel periodo grigio e da quei pensieri cattivi che avevo vedendo mia mamma star male per fortuna mia mamma tramite delle cure riuscì a guarire fece varie chemio e infatti iniziò a perdere i capelli mi ricordo che per farla sorridere la prendevo un sacco in giro e questa cosa ha funzionato perché secondo me sono riuscito a distrarla un po' da quello che gli stava succedendo arriva la fine delle superiori uscì con un calcio in culo e con un 67 ragazzi ero felicissimo non mi importava niente del voto l'importante era uscire da quella scuola ed essere diplomato dato che avevo questo senso di responsabilità di non dover mai chiedere soldi ai miei genitori perché lo vedevo davvero come un peso visto che mi hanno mantenuto per tutta la vita iniziai subito a cercare lavoro e decisi di mettermi davvero sul serio su youtube ma dato che quest'ultimo ancora non mi dava la possibilità di vivere trovai lavoro in un cinema nel cinema della mia città ma non tipo a fare l'attore no 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 a pulire il sale a servire i popcorn le bibite mi piaceva un sacco stare a contatto con la gente fare delle battute far ridere le persone dopo tre mesi mi licenzio era una vita abbastanza difficile perché lavoravo praticamente sempre il sabato pomeriggio il sabato sera fino alle due di notte e anche la domenica non avevo più un weekend libero ma non è per questo che mi licenziai mi licenziai perché trovai un lavoro molto più bello andai a lavorare in un centro per disabili a fare l'operatore questa esperienza mi ha cambiato un sacco la vita perché capi veramente quanto io fossi fortunato e quindi volevo mettere a disposizione la mia persona per aiutare altre persone che magari erano meno fortunate di me lavorai lì un anno tutti i soldi che guadagnai li metti da parte perché volevo andare a Milano il mio sogno era trasferirmi a Milano quindi a 19 anni presi un treno fu una scommessa perché avevo dei soldi da parte ma mi bastavano giusto per qualche mese e quindi a ottobre mi ricordo che era ottobre mi trasferi a Milano un sogno che sia vero lì a Milano ovviamente ancora non mi mantenevo con YouTube e quindi trovai un altro lavoro dato che il lavoro precedente mi era piaciuto tantissimo mi misi a disposizione per lavorare per una fondazione che aiutava i bambini maltrattati abusati dai genitori o comunque da adulti lavorai lì un anno e mi accorsi che comunque Milano era tanto bella quanto mi distraeva perché comunque c'erano persone adulte che cercavano di approfittarsi di me c'erano un sacco di amici un sacco di persone conobbi un sacco un sacco di gente quindi volevo sempre uscire ci sono un sacco di discoteche e la vita è cara a Milano quindi Milano è bella ma è anche difficile ci furono dei momenti difficili nel quale arrivavo a malapena a file mese però devo ringraziare la mia forza di volontà perché non ho mai smesso di credere nelle mie passioni infatti oggi YouTube per me è un lavoro e mi ha permesso di conoscere un sacco di amici si è trasformata dalla passione più grande nata come un gioco come uno sfogo nel mio lavoro e mi ha permesso di essere seguito da un sacco di persone che mi amano ho aperto anche tanti altri social network quindi oltre a YouTube adesso ho anche TikTok Instagram dove faccio un sacco di cose e per quanto riguarda YouTube già dall'inizio quando i miei fan mi regalavano i primi disegni i primi regali li ho conservati tutti adesso ve li faccio anche vedere